Ugolotti, partiamo dall'episodio incriminato di questa partita, la rete annullata a Speranza dalla tribuna e sembrata regolare la posizione del capitano. La spiegazione che ci ha dato il guardialini era di un fuorigioco, non può essere fuorigioco di chi ha eseguito il gol, perché noi proviamo e riproviamo, perciò il giocatore parte da dietro e va a sfruttare i blocchi. Quindi se mi fosse stata data una spiegazione per cui è stato ravvisato un ostruzionismo, una trattenuta, questo ci posso stare, ma che sia stato un fuorigioco, io potrò non rivedere poi. E non è difficile commentare quando non si sono riviste le immagini, però rivedendola dal capo e sapendo un po' la dinamica di come è venuta questa situazione, penso che è molto dubbio la segnalazione. Al di là di questo però Golotti ci sta il fatto che Nel Teramo non abbia prodotto grandi azioni da gol, non ha rischiato nemmeno tantissimo però. Noi non è che siamo nettamente superiori alla maceratese, la maceratese sta facendo un signor campionato e ha una signora squadra, poi se qualcuno ancora vive di ricordi per cui la parola Teramo significa primi posti, secondi posti, il Teramo di quest'anno è questa squadra, le difficoltà che abbiamo riscontrato sono queste, abbiamo avuto dei momenti in cui ci siamo un pochettino esaltati perché abbiamo trovato subito il gol, forse oggi se trovavamo il gol subito con Barbuti potevamo assistere a un'altra partita, dobbiamo essere più cattivi perché anche oggi le nostre occasioni fuori casa le abbiamo create e più di questo penso che in questo momento dobbiamo essere un pochettino più cinici e poi essere un pochettino più fortunati. Questa squadra Ugalotti però nelle ultime settimane sta facendo fatica a mettere il pallone in rete, secondo lei come mai? Indubbiamente, abbiamo passato un periodo in cui probabilmente eravamo un pochettino più esuberanti, non vorrei che mentalmente il fatto delle due partite in casa, di non aver fatto risultato, di aver interrotto un pochettino una serie positiva con la sconfitta della Reggiana possa aver influito dentro la testa, i ragazzi sono molto vulnerabili da questo punto di vista, io mi auguro che al di là che adesso siamo veramente in salita però ci sono ancora due partite, tutto può succedere. Ecco, al di là di questo, mai dire mai nello sport e in particolare nel calcio, però play out obiettivamente più vicini a questo punto, poi bisognerà attendere questa sera. La parola play out, finché non c'è la matematica certezza non la voglio pronunciare, siamo lì, ce la lotteremo, vediamo i risultati di stasera perché è normale che noi dovevamo cercare di fare risultato pieno, ci siamo andati vicini, adesso dobbiamo vedere un attimino cosa succede e poi dopo abbiamo due partite, è normale. E mancano solo due partite, di conseguenza le possibilità di tirarci fuori direttamente diminuiscono sempre, però è una squadra viva, è una squadra che lotta, è una squadra che anche oggi fino alla fine ha cercato di vincere la partita. Dobbiamo lavorare su questo e cercare se dovesse essere partite di andata e ritorno dei play out, essere più cinici e più spietati. Mister, c'è un caso fratangelo nel Teramo, lei poco fa diceva che da domani il ragazzo si allenerà con la Berretti, che cosa è successo? È successo che il ragazzo quando doveva entrare aveva mal di schiena, allora dobbiamo capire se il mal di schiena era prima della partita o se è un mal di schiena di circostanza, perché non ha comunicato niente, ma questa è una questione un pochettino di mancanza di rispetto per chi ho lasciato a casa, non esiste, poi torno a ripetere, con tutto il rispetto, il ragazzo è giovane, non carichiamolo di troppe responsabilità perché sono altri i giocatori che si devono caricare di responsabilità e soprattutto all'allenatore che si deve caricare di responsabilità. Lui è giovane, ha fatto un errore, da domani è giusto che vada con i suoi colleghi. Leggendo le dichiarazioni di questa settimana si pensava a un Teramo che deve venire ammacerata per vincere, però nel primo tempo è sembrata una squadra troppo rinunciataria, non ha dato quell'impressione di dover vincere, si accontentava del pareggio, come mai? Non ci accontentiamo mai del pareggio, abbiamo messo, beh, non è che possiamo pensare di venire qua e fare 64 tiri in porta, nella mente ce l'abbiamo, poi entriamo in campo, avevamo due giocatori offensivi, perché Petrelle è un giocatore offensivo, avevamo due punte, abbiamo giocato con due centrocampisti di fronte a una squadra che è vero che ci ha messo qualche volta sulle ripartenze in difficoltà, però abbiamo cercato di fare la nostra partita, è normale che abbiamo delle difficoltà, le difficoltà sono della classifica, se siamo lì vuol dire che qualche lacuna l'abbiamo. Tornando a Fratangelo, quindi il giocatore... Non voglio più rispondere su Fratangelo, perché ho già riposto, no, ho altri giocatori che sono pronti per giocare con il Parma, grazie. Lei è più o meno ottimista da qui in avanti, queste ultime due partite, da qui alla fine stagione regolare? Ma io sono sempre ottimista, torna a ripetere, io vedo il lavoro di questi ragazzi durante la settimana, torna a ripetere, quando ci sarà da pensare ai play-out, penseremo ai play-out. Adesso siamo in una posizione di classifica che teoricamente facendo sei punti possiamo arrivare a 42, 42 è una quota che potrebbe garantire la salvezza, è normale che dobbiamo sempre fare qualche cosa di più, ma noi ci impegneremo sempre perché, torna a ripetere, se non riusciamo a raggiungerlo direttamente abbiamo ancora la possibilità, torna a ripetere, di poterci tirare fuori attraverso la lotteria dei play-out. Beh, effettivamente lo 0-0 non serviva proprio a nulla, l'unica cosa che è stata una partita equilibrata e l'episodio a favore l'hai avuto, purtroppo il Guardiani ha sbandiato su un calcio di punizione, a mio avviso incredibilmente, fuori gioco, e poi a fine partita ci hai detto se ho sbagliato scusateci, come se questo ci ha detto a fine partita, la cosa ci sembra un pochino incredibile, però portiamo a casa questo punto e mettiamo la testa giù perché ormai non ci si può fare più nulla. Al di là della rete annullata che probabilmente era regolare anche come dicevi tu al 91esimo per quanto detto dal direttore di gara, bisogna però aggiungere che il Teramo oggi non ha quasi mai concluso nello specchio della porta della Maceratese, c'è qualche problema in avanti nelle ultime settimane? Ma non abbiamo mai concluso, mi sembra un po' eccessivo. Nello specchio della porta? Sì, le occasioni comunque le abbiamo avute, sicuramente sono una partita combattuta, le hanno avute anche loro, come ripeto purtroppo l'episodio del gol l'abbiamo trovato, è andato a finire così purtroppo. Mirko, in settimana, durante la settimana nel corso degli allenamenti, il vostro tecnico Ugolotti dice i ragazzi si allenano bene, sono cattivi durante gli allenamenti, poi però in campo non dimostrano tutta questa determinazione, siete d'accordo con quest'analisi? Ma diciamo che comunque in settimana ci alleniamo bene, quello è vero, forse la domenica ci manca qualcosina in più, cerchiamo di trovarla in settimana sperando che riusciamo a tirarci fuori da questa situazione. A questo punto però per la salvezza diretta occorrerebbe un miracolo? Sì, però dai, tutto è ancora possibile, quindi noi testa bassa, lavoriamo e cerchiamo di portare i punti a casa prima della fine del campionato. Grazie. 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 Grazie.